Rieccoci qui signori, prontissimi per parlare di quel che ci interessa a livello economico, parliamo di bonus perché ci sono gli incentivi auto e quindi parliamo anche di automaticamente ottime notizie per tutti gli italiani che hanno necessità di cambiare la propria auto quando possono cambiarle bene, altrimenti tante volte purtroppo si è costretti. Allora, questo vale anche per chi compra per la prima volta un'auto, perché dal 10 di gennaio riparte l'eco bonus rifinanziato anche per il 2023 con ben 630 milioni di euro e poco ci importa se sono già passati alcuni giorni. Si tratta di un contributo messo a disposizione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'acquisto di veicoli che non sono inquinanti, quindi auto elettriche, ibride, a motore termico con un livello di emissioni fino a 135 grammi al chilometro di CO2, ma questo vale anche per motocicli, ciclomotori e compagna bella. Il bonus è rivolto alle persone fisiche o giuridiche che intendono acquistare veicoli nuovi e non inquinanti e viene riconosciuto sotto forma di una specie di sconto che viene poi applicato dal concessionario proprio al momento, cioè il giorno in cui state acquistando il veicolo. Sarà infatti il concessionario stesso a prenotarlo sull'apposita piattaforma online gestita da Invitalia, quindi voi non dovrete fare nulla. Unica condizione mantenere la proprietà del veicolo per almeno un anno. Beh, insomma, se uno compra un'auto nuova non credo che la dà via subito, no? E allora ecco quanto spetta di incentivo a seconda della tipologia di auto acquistata o nel caso ci sia o meno la rottamazione. Per quanto riguarda le auto elettriche, 5.000 euro con rottamazione di un veicolo della stessa categoria, omologato euro da 0 fino a 4 e 3.000 euro senza rottamazione. Per le auto ibridi e plug-in, 4.000 euro con rottamazione di un veicolo con la stessa categoria, omologato euro da 0 a 4 e altrimenti 2.000 euro senza la rottamazione. Invece per le auto a basse emissioni, 2.000 euro con rottamazione di un veicolo della stessa categoria, omologato da euro da 0 a 4 e non è previsto, non è previsto senza rottamazione. Per tutti coloro che hanno ISEE inferiori a 30.000 nell'anno 2022, gli importi sono un attimino più alti. Per le auto elettriche, 7.500 euro con rottamazione di un veicolo della stessa categoria, omologato euro da 0 a 4 o 4.500 euro senza rottamazione. Per le auto ibride plug-in invece, 6.000 euro con rottamazione di un veicolo della stessa categoria, omologato euro da 0 a 4 e 3.000 euro senza rottamazione. Il contributo va sottratto dal totale della fattura, quindi dal prezzo IVA inclusa, ed è necessario che la fattura riporti anche l'importo al netto del contributo. Ma come possiamo richiederlo questo benedetto bonus? Cioè sappiamo che c'è ma non sappiamo come chiederlo. Prenotazione si può fare con quella, con l'erogazione, con il rimborso e con il recupero. Parliamo di tutti e quattro. Prenotazione. Il concessionario, una volta completata la registrazione alla piattaforma online gestita da Invitalia, procede con la prenotazione del contributo per ogni veicolo e se, insomma, in base alla disponibilità del fondo, riceve poi conferma della prenotazione effettuata. Invece, per l'erogazione, il concessionario riconosce al cliente il contributo tramite uno sconto applicato sul prezzo di acquisto, mentre per il rimborso il costruttore o importatore del veicolo rimborsa al concessionario il contributo erogato e infine per il recupero il costruttore o importatore del veicolo riceve dal venditore tutta la documentazione utile per poter recuperare il toto contributo rimborsato sotto forma di credito d'imposta. Spero che queste notizie vi siano più che utili e fate, mi raccomando, bene il vostro acquisto. Io vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiremo alla prossima, sempre su Pausa Caffè.